Il capitano Claudio De Rosa, l'altro giorno dicevo a De Franco che è stato abituato negli ultimi anni ad essere il capitano del Monopoli, del Matera, che qui trova un capitano già ormai per antonomasia, Claudio De Rosa, e lui ha detto sì, lo so, ma da Claudio De Rosa c'è solo da imparare. Questo sicuramente mi fa piacere, cerco di essere comunque sempre un punto di riferimento per chi arriva nella nostra squadra e nella nostra città. Abbiamo fatto un lavoro di tanti anni, abbiamo creato un grande gruppo e quindi dobbiamo proseguire sotto questa forma, perché comunque la cosa che ti fa andare avanti è l'avere un grande gruppo che lavora, si impegna e poi alla fine tutte le domeniche onora la maglia. Senti, vedere un ragazzino di 39 anni che corre, suda, sbuffa, qui si corre tanto, con Modica sapevamo. Sì, conoscevamo già il mister, sappiamo i metodi di lavoro, quindi si lavora tanto, però poi alla fine il lavoro te lo ritrovi durante il campionato. Adesso è normale ed è pure giusto sudare e come hai detto devo sbuffare perché il lavoro è veramente pesante, però siamo qui per metterci in condizioni e per affrontare al meglio questo campionato che può andare ad iniziare. Questo gruppo intanto come lo stai vedendo da capitano? Che gruppo si sta plasmando? Il gruppo non abbiamo sempre le stesse regole, quello di rispettare sempre tutti, dal più piccolo al più grande, quindi chi entra a far parte di questa famiglia, di questo gruppo, già trova le porte aperte, ci sono delle situazioni da seguire, comunque noi siamo sempre a disposizione di tutti, poi sappiamo che persone siamo, anche i più vecchi, quindi è tutto più semplice perché quando crei un gruppo che già è compatto, un gruppo dell'anno scorso già abbastanza compatto, per chi viene è molto semplice inserirsi nello spogliatore in un gruppo comunque di squadra. Invece sulle caratteristiche tecniche sono arrivati giocatori di esperienza come De Franco Esposito, è arrivato Onisa, un giovane, De Paoli, insomma anche lui dall'esperienza di Rieti, giovane, tanti altri giovani della Berretti, da un punto di vista tecnico che rinforzi sono stati? Come li trovi? La società ha lavorato bene, comunque avendo già un buon gruppo di lavoro e di squadra, comunque ha fatto degli innesti importanti in ruoli cardini e quindi penso che possiamo solo migliorare, poi è normale che il campo ci darà il risponso. La squadra sta lavorando bene, quindi io sono molto positivo su questa nuova annata. Una volta agli attaccanti e all'attaccante De Rosa si sarebbe chiesto quanti gol prometti ai tifosi, qui diciamo già quante presenze prometti, scherzavamo prima. I gol non li ho mai prometti, li ho sempre fatti, però alla fine no, stiamo qui a disposizione dell'allenatore e comunque a disposizione di tutti i ragazzi, poi si può giocare di più e si può giocare di meno, però l'importante è dare sempre la mano all'interno dello spogliatore, perché poi è quello che ti fa andare avanti e far arrivare i vari risultati positivi durante tutta l'annata. E l'altro vecchietto terribile, Favasuli, invece come va in questi giorni, come lo stai vedendo? Vabbè Ciccio è un esempio per tutti, per come si pone ogni volta, per come si allena, quindi abbiamo detto tantissime volte di Ciccio Favasuli calciatore, però io mi soffermerei comunque su Ciccio Favasuli uomo perché è una persona che ti fa imparare tanto, ti fa crescere, comunque è un esempio per tutti noi, è un esempio anche per me che sono anche più grande di lui, però ti ripeto, un ragazzo positivo, un ragazzo che ha dei principi sani e quindi io e lui cercheremo sempre di far pensare alla squadra alla stessa nostra maniera. Ovviamente la volontà è di fare un bel campionato, vincere il più possibile, divertirsi, raggiungere magari anche qualche traguardo ambizioso, lo avete promesso a voi stessi, ve lo siete ripromessi in gruppo nei giorni scorsi, in quest'ora l'avete promesso anche a dei tifosi speciali che erano presenti e sono venuti sulle tribune qui a San Gregorio Magno. Un campionato e vittorie che saranno dedicate al piccolo Luigi e come hai ricordato tu anche alla mamma di Germinale che è venuta a mancare in queste ultime ore, è stato un momento toccante in cui la squadra si è unita con alcuni tifosi, il pubblico anche col papà di Luigi che era qui. Sì, da premettere che il padre di Luigi è un mio fratello, quindi come ho detto pure prima, mi è mezzuno anche a parlare adesso e abbiamo promesso di onorare comunque la maglia perché lui dalla sua comunque ci tiene tantissimo, so che fa il tifo per noi e oggi vedendo noi che parlavamo con il suo papà, con i suoi zii e con tutti i tifosi, quella presenti diciamo del rione, lui da lassù è stato molto emozionato perché ci ne va tanto, era un tifoso della cavese, quindi allora ogni vittoria la ditecheremo a lui che da lassù ci guiderà e quindi non so più che dire perché praticamente... Beh l'emozione è stata tanta e ancora tanta. È stata tanta, sì, purtroppo sono legato molto anche alla sua famiglia, quindi lui ha ricevuto, lui era il mio preferito perché praticamente ogni qual volta facevo un compleanno qualcosa e io gli regalavo un qualcosa di importante a livello mio personale e affettivo della cavese, gli ho regalato la fascia di capitano delle centropresenze, gli ho regalato la maglietta delle duecentopresenze e gli ho regalato la maglietta del centenario del gol contro il Catania, quindi era il mio tifoso preferito, quindi abbiamo avuto una grande perdita e sono sicuro che da lassù lui ci guiderà ai vari successi. Abbiamo un altro angelo che ci guida e che ci guarda e ci segue. Bene, grazie capitano. Grazie.